Un bilancio positivo che porta tutto il direttivo dell'Avis di Andrea ad appellarsi alla sensibilità dei cittadini perché possano donare sangue. Un gesto nobile che negli oltre 3.000 casi di donazione ha contribuito a salvare la vita a molti cittadini. Quella di qualche giorno fa è stata l'occasione per la Presidente Maria Grazia Iannuzzi dell'Avis di Andrea per fare il bilancio del primo anno da Presidente conclusosi con grande soddisfazione. L'anno sociale 2013 che tra l'altro è stato il primo anno della mia presidenza quindi diciamo che è un po' il bilancio del mio anno si è chiuso con un ottimo risultato con 3.688 sacche di sangue raccolte quindi una leggera crescita rispetto all'anno precedente chiaramente questa è la cosa che più ci dà soddisfazione vedere che è un fenomeno in crescita che quindi con la nostra opera di divulgazione riusciamo a convincere sempre più ragazzi e adulti a donare il sangue. Se il 2013 si è chiuso con un bilancio positivo e con risultati incoraggianti per il 2014 si punta molto più in alto. Già a marzo si riprende l'attività delle autoemoteche presso le scuole primarie di primo grado della città ma si punta ai piccoli a chi frequenta già la prima elementare. Grazie alla sensibilità delle scuole elementari quindi dei circoli didattici e dei loro dirigenti partiamo subito da marzo con la raccolta del sangue e con le autoemoteche ovvero noi andiamo nelle scuole, illustriamo ai bambini quest'anno di prima, seconda e terza elementare quindi è una nuova sfida perché sempre più piccoli. illustriamo con un cartone animato quindi molto semplice che cos'è la donazione del sangue perché si dona il sangue, che cos'è il sangue, diamo poi loro un dépliant da portare a casa e di solito i bambini sono molto bravi a convincere i genitori a venire poi a donare. Ha parlato di donazioni di sangue, oltre alle sacche sono stati raggiunti anche altri risultati? Sì, sono stati anche raccolti 460 donazioni in aferesi questa è una cosa molto importante, purtroppo diciamo che da questo punto di vista siamo ancora ad un traguardo piuttosto basso perché non sono molte le donazioni in aferesi e invece bisognerebbe stimolare e convincere che è una donazione molto molto importante e quindi ci auguriamo soprattutto nel 2014 di avere un aumento senz'altro delle donazioni di sacche e di sangue ma ci auguriamo soprattutto di avere maggiori donazioni in aferesi perché è una cosa veramente importante. Grazie Grazie